Ben trovati nell'angolo dello spazio. C'è stata una, come si dice, riunione, è presto trovato il tema, una riunione della Commissione di Vigilanza che ha aperto i lavori della Commissione con il Presidente della Lega di B, Mauro Balata, che ha affrontato i tempi riguardanti la ripartizione delle risorse economiche che in Italia penalizza le società di Serie B. Balata ha detto che fare calcio in Italia è un'impresa titanica. Intanto vorrei ricordarvi che c'è un ennesimo capitolo di questa tormentata stagione vissuta dalla Serie B. Il Tar del Lazio, infatti, si è riservato di decidere in merito al ricorso presentato dal Foggia in subordine dal Venezia, che a suo tempo, vi ricordate, aveva chiesto la sospensione di play-out. L'organo giudicante riunito in Camera di Consiglio ha discusso su questa legittimità che è stata assunta a suo tempo dal direttivo della Lega B che aveva annullato di play-out. Insomma, è un casotto. È brutto dirlo, ma è una situazione caotica. Farebbe bene, non solo Balata, ma lo stesso Presidente della Federazione Italiana, Giorgis, a prendere in mano la situazione con molta determinazione e a riscrivere delle regole semplici, chiare, da applicare e chi non le applica viene fatto fuori. Per il verso se no andremo avanti all'italiana in questo modo che è soltanto un marasmo. Vabbè, diceva Balata che fare calcio nel nostro Paese è un'impresa difficile. Ha detto che nel nostro Paese alle società della Lega è riservata la percentuale di mutualità più bassa rispetto al resto d'Europa. Comunque Balata ha voluto lanciare un messaggio. Ha detto diamo una mano a quelle società che abbiano una amministrazione, una gestione virtuosa e cerchiamo di portarla avanti. Però la domanda è più completa. Dove va a finire questo calcio nel prossimo ventennio? È vero che tutti aprono le scuole di calcio, che sono soltanto una fonte di soldi e di sfruttamento delle famiglie, direi quasi una fiera delle vanità. È anche vero che adesso siamo belli soddisfatti perché abbiamo una nazionale di Serie A che ha vinto quattro partite su quattro, abbiamo una nazionale femminile che ci fa sognare, abbiamo un Under 21 che ha battuto il complesso della Spagna per 3-1 dopo aver sofferto i primi 20 minuti in maniera terribile perché ci avevano nascosto la palla non ce la faccio vedere, ma detto questo il calcio non può vivere su queste estemporanee vittorie, deve avere un risultato concreto fatto di programmazione. O il calcio si rinnova o altrimenti il calcio italiano sarà perdente. Non c'è nulla da fare. Nelle altre nazioni le società si fanno le loro squadre, i loro stadi e in Italia abbiamo solo due o tre esempi tipo la Juventus, il Frosinone, troppo poco. Almeno le squadre professionistiche, quindi Serie A e Serie B dovrebbero avere il loro stadio di proprietà. Uno stadio che viva tutta la settimana, non soltanto il giorno della partita. Uno stadio che sia un indotto di attività collaterale, tipo merchandising inteso in senso lato. Altrimenti non si può andare avanti, altrimenti significherà sbattere soprattutto il naso, il muso, di fronte a delle realtà che sono notevolmente pesanti. Bene, chiudono qui, un affettoso abbraccio e appuntamento alle prossime puntate di TVQ Sport. Grazie per la visione!